Salve a tutti i nuovi gamer, benvenuti in questo nuovo video su Counter-Strike Global Offensive Cercheremo di riprendere il canale con un primo video di fenete su CSGO. Cominciamo! Ok At last to b One back Nice Planting Nice What a ten shot Someone have flash? Flashback No, I'm, I'm Fuck Fuck you No HP No male che è low HP, cazzo No 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 Sì Stavo pensando a... Non male che tocco per te Provo qua? Non diamogli la possibilità di fare una doppia però Nice Eh? Bb Ah, stavolta vado avanti io Troppo ora che pushino, quella è la mia paura Fittagli ho una paura molto, non credo No Ma vaffan... Vabbè ti guardo le spalle Dai Ah c'è, c'è blu, c'è blu Dove stanno? Due sono C'è blu Bravo, bravo, bravo I'm throwing smoke Good job Ace, this ace? No, 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 mancava uno Fuck A destra sta, fai? Oh bravo Già andrea sta Oh Oh Bravo, bravo What are you doing? Abbiamo esce il turbo, cazzo Oh Mamma mia Che nabbo, che nabbo 98 gli ho fatto Ebbè 2 pb che dovevo fare Non trotterà Non trotterà Nice, thanks B Minja che buca nooo fino a 90 prendi il fino a 90 prendi il fino a 90 eh troppo tanti prendi il fino a 90 troppo tanti... che ne ho mai detto ti lascio facciamo il rush che facciamo con 0 Non si aspettavano Nice Veloce veloce proprio Oh agento 3 finalmente Oddio mi che schifo agento 3 Mamma mia Tu? Mazz Mazz